la verità è che noi italiani non possiamo parlare perché siamo maestri del paradosso noi abbiamo Matteo Salvini che vuole uscire dall'euro e intanto si vede un stipendio dal Parlamento Europeo è come se il tuo figlio a 18 anni vuole andare via di casa e dice papà me ne vado perché voglio essere autonomo e indipendente ma non ti vedrò mai più, no no, io torno una volta al mese e fammi true resort